Signori, ce l'abbiamo, ce li abbiamo, abbiamo le primissime parole, le primissime dichiarazioni del nuovo allenatore alla Fiorentina, Vincenzo Italiano. Abbiamo battuto i 23 giorni di Gattuso, no? Perché chiedo per un amico, tante le volte, se battuti il record di Gattuso è già più di 23 giorni e lei a Firenze Italiano, no? Perché si sa mai, eh? E ragazzi, abbiamo le primissime parole, le primissime dichiarazioni che vi dirò, diciamo, meglio di Gattuso, diciamo, nell'atteggiamento perlomeno, nel porsi o comunque anche solo nelle espressioni facciali non ci voleva tanto, però comunque diciamo che è stata una conferenza stampa e anche quando c'è stata la presentazione al piazzale delle parole, delle dichiarazioni abbastanza normali, non so, non sapremmo me dire. Insomma, diciamo che lui sembra, Vincenzo sembra comunque motivato da quello, dall'epodio volato tutto il terremoto, motivato comunque da quello che dice, da suo dire, cioè ci sarà ovviamente da vederlo in campo, come si comporterà anche con la squadra, dice comunque l'è arrivato, l'uscia tanta voglia di fare, anche comunque la squadra dice che ha trovato dei ragazzi e un ambiente comunque molto motivato. Niente ragazzi, io praticamente ho visto comunque che si manterrà appunto questo modulo 4-3-3. Mi è piaciuto molto questa, diciamo, questa affermazione molto zemaniana, se vogliamo fare un paragone, che lui, che appunto italiano ha espresso, cioè migliorare la difesa ma soprattutto giocare molto bene in attacco, quindi diciamo, giocare bene in difesa, giocare molto bene in attacco, quindi comunque, diciamo, fare il classico, fare un gol più degli avversari, quindi comunque mi piace questo stampo, perché effettivamente a Firenze è un po' che non vediamo un gioco prettamente più offensivo rispetto a difensivo, perché negli ultimi anni siamo stati abituati appunto al contrario, a giocare anche come negli ultimi anni in 27 davanti all'area di difesa. Mi piace molto questa idea, sono molto contento effettivamente di questa dichiarazione, perché serve anche un po' di aria fresca sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista del gioco, anche perché comunque italiano lo sappiamo, l'abbiamo vista all'Ospezia, gioca molto a livello offensivo e quindi ne sono molto lieto e molto contento, visti anche gli ultimi arrivi, gli ultimi, gli ultimi, l'ultimo arrivo di Nicolas Gonzalez, che appunto potrebbe appunto, dicendo di nuovo appunto adesso mi rompo il cazzo da solo, esprimere al meglio il suo talento insieme magari a Sottile dall'altra parte sull'altra fascia, non si sa mai, fino a ora. Ovviamente inizieranno per bene tutti insieme, anche se hanno già iniziato gli allenamenti tutti insieme, dal ritiro di Moena, allenarsi, tattiche, comunque a fare, a costruire il nuovo gioco per la nuova squadra dell'anno prossimo. Cominceremo tra l'altro con la Roma, quindi diciamo un banco di prova mica da poco il 22 d'agosto e poi addirittura si chiude con la Juve, così, magari ultima giornata di fuoco, così a caso, magari per non giocarsi un cazzo oppure per giocarsi qualche posto da qualche parte e non si sa mai, o anche loro, insomma, anche la Juve, magari con noi l'ultima giornata si giocherà magari o l'usco detto qualcosa, te l'immagini, vabbè. Diciamo che nelle sue parole, molto positive comunque, anche se, vabbè, niente di che, c'è stato delle cose che mi hanno lasciato un pochino così, soprattutto il rimanere sempre vaghi su certe risposte, il non porsi un obiettivo vero, ma semplicemente dire, tipo, alla domanda quale potrebbe essere l'obiettivo per l'anno prossimo per questa squadra ora che è arrivata a Firenze, il fare meglio dell'anno scorso. E grazie anche al cazzo, perché se si fa peggio si fa in Serie B, cioè, nel senso, mi venivato a dire, volevo scriverglielo, volevo dirglielo, cioè, grazie a sta minchia, cioè, capito? Diamoci un obiettivo, ma un obiettivo vero, non fare meglio. Fare meglio, cosa vuol dire fare meglio? Fare meglio vuol dire anche arrivare in Champions, ok? Però poniamoci un vero obiettivo, diciamo, arriviamo decimi, bene, obiettivo arrivare decimo, bene, fare meglio, grazie, per forza, cioè, nel senso, te sei venuto qui per fare meglio del tuo predecessore, perché se no è inutile che tu sei venuto qua, è inutile che si faccia tutto sto casino per il cambio di modulo, i milioni spesi sul mercato per fare come l'anno scorso, ok? Quindi, l'unica cosa che magari volevo sottolineare, però vabbè, diciamo che se vogliamo proprio essere puntigliosi e trovare il pelo nell'uovo, niente, io diciamo che comunque sono contento dell'arrivo di questo allenatore, anche se lo sapete, il mio pensiero, se non lo sapete, lo trovate comunque nel video appunto di quando è arrivato italiano, su questa, diciamo, forzatura molto, di portarlo qua a Firenze, quindi, diciamo, lui comunque sembra motivato, sembra contento, sono contento comunque di vedere un allenatore che ha voglia, ora da Moen appunto vedremo come si svolgeranno gli allenamenti, vedremo se magari qualche ragazzino si metterà in luce, come il piccolo Male, per esempio, male, male, piccolo male, Yusuf, 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 se si metterà appunto in mostra per esempio lui, oppure qualche altro ragazzino, insomma, che quest'anno potrebbe brillare, uno Zurkowski dico, un Sottil, che potrebbe giocare titolare quest'anno, potrebbe essere la sua grande occasione, la sua grande stazione nel caso non si faccia mercato su quella fascia, per esempio, no? Però comunque in generale ragazzi sono contento, fatemi sapere la vostra, io per ora rimango diciamo positivo, rimango positivo, non mi esalto più di tanto perché ormai diciamo che mi sarei, ecco, l'unica cosa mi sarei aspettato un pochino più di... un obiettivo, un obiettivo, l'unica cosa, un obiettivo, volevo un obiettivo e non ce l'abbiamo, migliorarsi per me, a mio avviso, ok, è un obiettivo, ma puniamoci, non diciamolo e basta. Poi vabbè, il campo appunto ti darà ragione oppure ti darà torto, Vincenzo, lo vedremo. E niente ragazzi, sempre Forza Viola, sempre, ciao!